Professoressa, avete inaugurato i nuovi cartelli e indicatori di tutto il bene che c'è qui all'ortobotanico, ma evidentemente state anche pianificando un futuro, l'avete già pianificato. Oggi inauguriamo una cartellonistica che sicuramente non si conclude qua, per cui verrà implementata e completata dal restauro, potremmo dire, di percorsi tematici, nello specifico sulle specie aliene invasive. Ci occuperemo sicuramente anche di verde urbano, quindi coinvolgendo, oltre che i comuni, diversi comuni, mi piacerebbe proprio coinvolgere non solo il comune di Cagliari, ma anche altri comuni della Sardegna o della città metropolitana almeno. Collaborare con le amministrazioni per cercare di prospettare un futuro diverso, anche di verde pubblico. Certo, promuovere delle giornate a tema specifico è molto importante. D'altronde noi universitari svolgiamo la ricerca, ma è inutile che i risultati della ricerca rimangano su carta. Il clima, i cambiamenti climatici, quello che voglio dire è che oggi è anche il compleanno dell'orto botanico. Sono 157 anni e l'orto botanico fa ricerca, fa didattica, ma fa anche divulgazione.